buonasera buonasera a tutti quanti e bentornati sul canale di guadagnare con le criptovalute come ogni come in ogni video vi consiglio di iscrivervi al canale perché i consigli che trovate sui miei video ritengo siano potenzialmente abbastanza utili quindi pertanto se voleste rimanere in continuo aggiornamento non fate altro che mettere un click su iscriviti al canale e mi raccomando seguitemi in tanti questo video è la continuazione del video precedente in merito a effettuare il mining con google chrome andiamo ad aprire l'applicazione questi iconcina qui allora adesso non so quanti giorni siano passati credo tre o quattro all'incirca come vedete il totale minato è questa cifra qui vi ricordo che per effettuare il prelievo bisogna raggiungere una cifra di 0,001 bitcoin io al momento sono a 0,00 e ci ho altri due zeri due zeri davanti no tre zeri davanti in sostanza non ho non è un cattivo risultato se mi fossi dovuto basare solo ed esclusivamente sul mio mining allora effettivamente mi sarei trovato con una cifra decisamente più bassa mentre come potete notare da questa scritta affiliate quindi le affiliazioni che sono in questo momento 13 13 iscritti col mio codice mi permettono di avere un bonus del 20% su quanto loro hanno minato quindi pertanto come vedete la cifra minata dalle persone sotto di me è maggiore rispetto a quella che ho minato io e di conseguenza sono riuscito ad ottenere questo risultato quindi ragazzi la cosa importante da fare in questo caso ma in qualsiasi altro caso si 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 fanno delle affiliazioni praticamente dovete se volete guadagnare di più dovete praticamente iscrivere delle persone con il vostro codice questo vi permetterà di guadagnare più soldi o di raggiungere gli obiettivi più facilmente più velocemente possibile con questo video non aggiungo altro perché si trattava solamente di un aggiornamento di questa piattaforma il prossimo obiettivo è sicuramente quello di arrivare agli 0001 bitcoin in modo tale da poter effettuare il prelievo e verificare appunto anche il pagamento non costa nulla perché praticamente non ho effettuato alcun investimento e quindi è totalmente gratuita si può utilizzare normalmente anche quando praticamente siamo a lavoro o comunque stiamo facendo altre altre cose al pc ha un consiglio magari avete aperto un account col computer di casa vostra se avete altri computer in casa potete utilizzare il codice del primo computer per poter aumentare appunto la velocità di mining avendo appunto il bonus del 20 per cento sugli affiliazioni oppure che so ipotesi avete effettuato la registrazione sul pc di casa ma durante il giorno a lavoro potete appunto attivare questa piattaforma anche sul pc del lavoro tanto basta semplicemente tenere la finestra di google di google chrome l'unica cosa da tenere in considerazione è appunto la velocità che in questo caso io anche per questioni puramente pratiche vi si è considerato che sto registrando un video ho scelto la velocità più bassa ma già anche con la velocità normale che vediamo attivo in questo momento si può continuare comunque a lavorare con il vostro pc sarà leggermente più lento vi ricordo per ultimo che la velocità di mining dipende anche dalla potenza del vostro pc quindi in questo caso io ho un pc di topolino e quindi di conseguenza la velocità è un po' bassa però in base alla potenza del vostro pc se avete un pc un pochino più decente del mio potete avere una velocità maggiore io in realtà questa piattaforma la utilizzo su un altro ho un mac che è molto più potente rispetto a questo pc e di conseguenza la utilizzo lì infatti uno degli utenti di questi 13 che appunto vi ho fatto notare prima uno di questi utenti è uno dei miei computer che ho in casa quindi è possibile effettuare il mining anche con computer differenti all'interno della stessa rete internet se avete domande volete chiedere informazioni non esitate a effettuare un commento a questo video mi raccomando lasciate anche un like se vi è piaciuto e la cosa più fondamentalissima come dicono gli intellettuali quelli bravi è effettuare l'iscrizione al canale se no mi arrabbio si mi arrabbio non me ne fregarà niente però io mi arrabbio lo stesso ciao a tutti ragazzi a presto al prossimo video ciao ciao